Con Ivan Cattaneo, il quale canta Polisex, che fa parte di un album. Allora, io rimarrò fermo per un anno perché sto preparando una mostra d'arte di 100 opere che si chiamerà Le Cento Gioconde. E la donna vista attraverso i vari aspetti, sarà l'ufo robotica, la riflessiva che è una donna tutta specchio. E sono tante cose, quindi sono abbastanza su un altro piano, su un altro pianeta. E voglio presentare una canzone che riguarda il mio passato, che non è revival, però una canzone scritta da me che si chiama Polisex. Ah, capisco, ti faccio molti auguri, senz'altro avrai un ennesimo successo perché sei pieno di creatività e di fantasia. Ivan Cattaneo! Grazie! 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 Grazie!